In questo convegno noi abbiamo parlato delle tecniche sia diagnostiche che chirurgiche, quindi dei progressi che negli ultimi anni sono stati fatti dalla medicina. In modo particolare abbiamo parlato dell'angelo CT, che certamente è un apparecchio che ci permette di fare delle diagnosi molto più precise e in tempi più veloci di patologie che interessano la senilità, visto anche che il problema della retina per quanto riguarda le degenerazioni manoculari sono praticamente rigate all'aumento dell'età dell'anziano. Poi c'è anche il discorso degli interventi che si possono fare per aggiustare danni che possono essere presenti sia a livello della retina secondaria a eventi traumatici, tipo i distacchi di retina, ma anche a patologie come la retinopatia diabetica, tipo le membrane neovascolari, tipo i fori retinici. Quindi gli argomenti sono stati praticamente molto vari ed è stato fatto un riscontro che la medicina negli ultimi anni, certamente per quanto riguarda la chirurgia e la diagnostica retinica, ha fatto dei progressi abbondanti.